Una sera in un cinema. Io sono sano e per questo sono il migliore. No, sono io il migliore perché piaccio i miei bambini. Inizialmente la frutta e la verdura non erano salutari, erano come tutti gli altri cibi. Un giorno si incontrarono un broccolo e una mela. Mela, dobbiamo fare qualcosa. I frutti e le verdure sono uguali a tutti gli altri cibi. Dobbiamo conciargli e stinguerci in qualche modo. Sì, hai ragione. Fammi un attimo pensare. Sì, conosco un posto molto lontano dove vivono la vitamina A e la vitamina C, che ci tenderanno a salutare e migliorare gli altri cibi. Così la mela e il broccolo partirono e dopo un lungo cammino incontrarono la vitamina A e la vitamina C. Adesso le verdure e i frutti erano forti, potenti e migliori degli altri cibi. I due personaggi devono fare un calcolo matematico. Questa non mi viene proprio. Io la so, lo so, lo so, fa... No, 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 aspetta, anch'io la so. Fa 6. Uffa, però... Io sono più intelligente di te perché ho le vitamine che mi rendono forte. Io sono Carota e non credo proprio che ti faccia parte di questo paese. Ma è venuta qui per distruggermi, tanto sono più buona e mi piace di fare bambini. Non ti permettere, io faccio più bene perché contengo calcio, ferro, fibre, potassio, vitamina A, B, C e D. E sono più forte! Patatina, non potevi vincere contro di noi. Siamo troppo salutari. Oh Carota, non finisce qui. Dopo che la patatina se ne andò, tutti gli abitanti del villaggio gioirono. Viva, viva, viva! Visto, l'avevo detto, sono io il migliore.